Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per le nostre unità sul piano cartesiano oggi andremo a vedere come trovare il punto medio di un segmento. Quindi lo scopo della nostra lezione, che idealmente continua a quelle che abbiamo visto precedentemente riguardo alla lunghezza di un segmento, ci permetterà di determinare il punto medio di un segmento sia nel caso che esso sia parallelo all'asse delle ascisse, ovvero l'asse delle X, sia nel caso che esso sia parallelo all'asse delle ordinate e chiaramente poi andremo a generalizzare e andare a trovare il punto medio di un segmento qualsiasi nel piano cartesiano. Come nelle lezioni precedenti, noi procederemo con degli esempi per poi determinare la regola di carattere generale. Quindi, come la volta scorsa, andiamo a considerare due punti nel piano cartesiano, il punto A di coordinate 2 e 1 e il punto B di coordinate 6 e 1 e chiaramente voglio andare a disegnare, essendo tutti e due punti presenti nel primo quadrante, come vedete qui ho solo il primo quadrante. Come al solito io vi invito a mettere in pausa il video, provare a disegnare voi stessi i punti e vedere se la vostra risposta coincide con la mia. Ed ecco i nostri due punti A e B. Come vedete abbiamo il punto A di coordinate 2 e 1 e il punto B di coordinate 6 e 1. A questo punto la domanda a cui andiamo a rispondere non è più quanto è lungo il segmento B, ma qual è il punto medio di questo segmento. Come dovreste ricordarvi dalle lezioni di geometria del primo anno, nel punto medio, in un segmento il punto si trova esattamente a metà tra i due estremi. Ora non ci vuole molto per capire che questo punto medio si troverà esattamente qui. Allora andiamo a disegnarlo e in genere il punto medio lo indicheremo con la lettera M. Questa è chiaramente una soluzione visiva, si vede molto chiaramente dove è. Però vediamo un attimo come andiamo a ottenere questo punto. Intanto andiamo a vedere quali sono le coordinate a questo punto. A avevamo visto a coordinate 2 e 1, va bene? B a coordinate 6 e 1, quindi come vedete hanno in comune la ordinata, la coordinata Y, infatti è un segmento parallelo all'asse dell'X. M è di coordinate 4 e 1. Ora la cosa riguardo all'ordinata non ci deve sorprende, no? Tutti i punti su questo segmento AB avranno la stessa Y. Riguardo al numero 4 invece, la cosa importante è che questo si trova proprio in mezzo tra 6 e 2. E se vi ricordate dell'aritmetica, per trovare un numero a metà tra due numeri, quello si deve fare con la media aritmetica, ovvero quello che si ottene in questo caso facendo 6, che è la coordinata di B, più 2 e il nostro risultato diviso 2. 6 più 2 fa 8, diviso 2 fa appunto 4. Ora, giusto per essere sicuri che il risultato che abbiamo ottenuto non sia solo un caso particolare del primo quadrante, andiamo a considerare altri due punti, anche essi allineati parallelamente all'asse delle X, ma questa volta abbiamo un punto C che si trova sì nel primo quadrante, ma un punto D che invece si trova nel secondo quadrante. E come prima vi chiederò di provare a disegnarli. Ed ecco i nostri punti CD, che chiaramente vanno a formare un segmento parallelo all'asse delle X. Come prima ci domandiamo dove possa trovarsi il punto M, cioè quali sono le coordinate del punto M, punto medio del segmento CD, ma questa volta invece di usare un metodo grafico, cioè quindi proprio andare a vedere dove si trova questo segmento, vediamo di usare un metodo algebrico, ovvero come abbiamo fatto prima, calcoliamo la media delle coordinate di questi due punti. Allora, intanto ci ricordiamo che C è di coordinate 3, 2, e D è di coordinate meno 4, 2. Quindi è ovvio che, come tutti i punti che si trovano su questo segmento, anche il punto M avrà come ordinata, cioè Y, uguale a 2. Il punto chiaramente sta nel trovare quanto vale la X. E la X la troveremo facendo la media delle ascisse, quindi facendo meno 4 più 3. Ora, piccola parentesi, al contrario della distanza, dove era fondamentale che il risultato venisse un numero positivo, qui, trattandosi coordinate, è normale che possa anche venire un numero negativo, quindi non c'è nessuna necessità di mettere il valore assoluto. Non importa in che ordine, comunque andiamo a sommare queste due coordinate, perché chiaramente essendo una somma, pur essendo una somma tra numeri relativi, il risultato non cambierà anche invertendo l'ordine degli addendi. Quindi, meno 4 più 3, e chiaramente il risultato andrà diviso per 2. Allora, meno 4 più 3 fa meno 1, meno 1 diviso 2 fa meno 0,5, oppure meno un mezzo, come preferite. Allora, andiamo a vedere quindi le coordinate complete di M, meno 0,5 e 2, allora 2 qui, meno 0,5 a questo punto qua. Va bene? Ed è chiaro che il nostro risultato è corretto, perché M si trova a una distanza di 3,5 da C e sempre a una distanza di 3,5 da D, quindi abbiamo esattamente il nostro punto medio. È corretto quindi generalizzare il risultato ottenuto fin qui, no? Il punto medio di un segmento parallelo all'asse dell'X. Ovvero, possiamo dire che il punto medio di un segmento parallelo all'asse delle ascisse ha l'ascissa pari alla media aritmetica delle ascisse degli estremi di questo segmento. è un po' non sciogli lingue, però essenzialmente, se sei parallelo all'asse X, il punto medio ha la X uguale alla media delle X. Ad esempio, se ho due punti A e B qualsiasi, X di A e Y di A, X di B e Y di B, anche se in realtà queste due Y dovrebbero essere uguali, l'ascissa di questo punto medio sarà la somma di X di A con X di B diviso 2. In maniera analoga possiamo procedere per trovare il punto medio in un segmento che si è allineato verticalmente, ovvero parallelo all'asse delle Y. Abbiamo un nuovo due punti A e B di coordinate 2,1 e 2,4 rispettivamente, come vedete hanno la stessa ascissa, quindi già questo mi dirà che sono disposti verticalmente. Di nuovo vi do un po' di tempo per provare a disegnare lì da voi e andiamo a vedere adesso come è fatto questo segmento. Ed ecco il nostro segmento AB, no? A di coordinate 2,1, B di coordinate 2,4. Il punto medio si troverà ovviamente qui in mezzo e utilizzo di nuovo il sistema che ho utilizzato anche per i segmenti paralleli all'asse X, con una differenza perché in questo caso di M cosa voglio conoscere? Non voglio conoscere la X, la X la so già, sarà 2, no? Devo trovare la Y, la Y probabilmente sarà di nuovo la media delle Y di B e di A. Proviamo. Allora la Y di B è 4 più la Y di A che è 1 e poi il risultato diviso 2, ok? 4 più 1 fa 5, diviso 2 fa 2,5 quindi secondo la mia procedura il punto medio di questo segmento dovrebbe avere coordinate 2,2,5. Allora andiamo a vedere 2,2,5 qui e non dovremmo essere sorpresi nel vedere che il nostro risultato è corretto. Super super velocemente andiamo a vedere il caso di due punti che non siano sullo stesso quadrante. ad esempio il punto C di coordinate 3,2 che si trova nel primo quadrante e il punto D di coordinate 3,3 che si trova nel quarto quadrante. E cerchiamo di nuovo rispondere alla domanda qual è il punto medio del segmento CD quindi chiamerò di nuovo il punto medio M M avrà la ascissa uguale a quella di CD ovvero 3 e l'ordinata che sarà data presumibilmente dalla media delle ordinate di CD per esempio posso scrivere meno 3 che è la Y del punto D più 2 che è la Y del punto C e di nuovo diviso 2 meno 3 più 2 fa meno 1 meno 1 diviso 2 fa meno 0,5 o meno mezzo insomma come preferite quindi meno 0,5 andiamo a disegnare questo punto quindi x è 3 M meno 0,5 cioè qua e di nuovo abbiamo ottenuto un risultato corretto quindi non ci deve sorprendere che la formula per trovare il punto medio di un segmento parallelo alla stella Y è speculare rispetto a quella che avevamo trovato per un segmento parallelo alla stella X essenzialmente si tratta di prendere la stessa formulazione e sostituire prima laddove c'era scritto ascissa o ascissa e scrivere ordinata a ordinate infatti il punto medio di un segmento parallelo alla stella ordinate ha l'ordinata pari alla media aritmetica delle ordinate estremi ad esempio di nuovo due punti A e B di coordinata XA, YA, XB, XB di nuovo dove XA e XB in teoria dovrebbero essere uguali l'ordinata in punto medio sarà data dalla media delle due Y quindi la loro somma diviso 2 senza perderci in ulteriori dimostrazioni è chiaro che nel caso di un segmento qualsiasi qui ovvero di un segmento che non sia parallelo né all'asse delle X né all'asse delle Y la formula sia una generalizzazione delle due che abbiamo trovato essenzialmente per trovare la X nel punto medio farò la media delle X per trovare la Y nel punto medio farò la media delle Y e chiaramente quando parlo delle X e delle Y mi riferisco alle X e delle Y degli estremi del nostro segmento quindi leggiamo la formulazione generale che tra le altre cose contiene al suo interno anche i casi particolari dei segmenti paralleli agli assi del piano cartesiano il punto medio di un segmento qualsiasi ha le coordinate pari alla media aritmetica delle coordinate degli estremi e di nuovo il nostro esempio le coordinate il punto medio M del segmento AB di estremi A XA YA e B X di B Y di B è M di coordinate questa è la X di M che è la somma delle due X dei due estremi di ISO 2 e questa è la Y di M che è data appunto dalla somma delle due Y degli estremi diviso 2 come vi rendete conto tutto l'argomento del punto medio è in realtà estremamente semplice però sarà importante nel momento in cui noi andiamo a studiare le figure piane nel piano cartesiano ma per oggi è tutto arrivederci da Mr. Boscherini